Buonasera per Notizia Abruzzo, siamo in compagnia dell'Avvocato Luigi Albore Mascia. Allora, Avvocato, lei è tra i protagonisti di questa prossima tornata elettorale per Forza Italia. Quali sono i suoi obiettivi? Beh, intanto bisogna stilare un programma per la città. Io ho individuato le emergenze di questa città, proprio questa mattina un suo collega mi chiedeva quali fossero i consigli da dare al futuro sindaco e puntavo su argomenti che abbiamo avuto modo anche di trattare ma che comunque i cittadini percepiscono come vere emergenze. La sicurezza, il degrado della città e la soluzione delle aree di risulta. Queste sono le tre questioni su cui il nuovo sindaco dovrà misurarsi e i primi 100 giorni saranno fondamentali perché i primi 100 giorni di governo della città sono quelli che creano poi il feeling, che creano il sentimento, che creano il legame con i cittadini che è destinato a durare nel tempo. Se un buon sindaco riesce ad avere le idee chiare già in campagna elettorale e quindi a far comprendere e a far capire ai cittadini quello che egli vuole realizzare e poi nei primi 100 giorni riesce anche a dare un segnale forte ai propri amministrati sulla traduzione in fatti concreti di ciò che ha preannunciato, ecco che si crea un meccanismo virtuoso perfetto che poi dà la possibilità di governare con slancio. Lei ha già iniziato degli incontri con dei cittadini, c'è un sentimento popolare naturalmente che adesso lei ci racconterà, ma come interpreta le idee dei cittadini? Guardi, questi primi giorni sono stati straordinari, io in queste settimane ho incontrato tante persone, le ho incontrate in ambrienti chiusi, in qualche modo promuovendo delle riunioni, ma ho incontrato anche tanti cittadini per strada. Le dico con proprio un pizzico pizzico di vanità che c'è oggi, dopo cinque anni di governo di centrosinistra, una grande rivalutazione di quello che noi abbiamo fatto nel quinquennio dal 2009 al 2014. E naturalmente questa rivalutazione non può non coincidere anche con chi è stato artefice, insieme ad una squadra di governo, di quegli anni delle grandi realizzazioni. E da parte dei cittadini percepisco in questo momento chiaramente favorevole al centrodestra, con una Lega che ha un consenso molto ampio, ma io ritengo che anche Forza Italia possa sostenere una grande campagna elettorale, non soltanto a livello locale, ma anche a livello nazionale, con il Presidente Berlusconi in campo per le elezioni europee, io ritengo che ci sia un vento molto favorevole al centrodestra, esattamente al contrario di quanto accadde nel 2014. E i cittadini chiedono soprattutto di essere ben amministrati, chiedono che ci siano idee chiare, chiedono che ci siano anche persone in grado di mettere in pratica queste idee, con pochi obiettivi immediati da raggiungere, ma che siano raggiunti davvero. Cioè il cittadino vuole che il politico parli direttamente, guardando negli occhi del cittadino, parlando direttamente al cuore del cittadino e parlando in maniera chiara. Il cittadino vuole serietà, vuole trasparenza, vuole idee chiare, vuole determinazione, vuole tenacia. Se mi consente vuole anche un po' di esperienza, perché governare e amministrare è un'attività di grande responsabilità e bisogna essere meno casuali possibili, ma invece i più esperti possibili in questa materia da maneggiare molto delicata. Bene, è importante ricordare che lei è stato anche sindaco di questa città di Pescara. Infine le chiediamo, invece, nei rapporti del centrodestra, magari è prematuro anticipare delle soluzioni, eccetera, però è stato avviato un dibattito. Lei come ritiene questo dibattito all'interno del centrodestra? Il dibattito all'interno del centrodestra è un dibattito molto costruttivo, molto sereno, molto pacato, che coinvolge e involge per il momento il gruppo consigliare di Forza Italia, in cui allo Stato tutti sono candidabili. Tutti i consiglieri comunali, che hanno condotto il ruolo di oppositori nei cinque anni di governo Alessandrini, hanno le carte in regola oggi per essere alla guida della città. Di questo bisogna che sia dato atto da parte di tutte le forze politiche. Ma comunque personaggi autorevoli, personaggi competenti, sono anche nel mondo di Fratelli d'Italia, nel gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, così come nell'ambiente della Lega, di cui sento nomi, di cui sento espressioni in questi giorni, possono essere individuati comunque personaggi che possono affrontare con grande capacità e con grandi chance di poter poi vincere anche la tornata elettorale. Insomma, la partita è molto aperta, è aperta all'interno di Forza Italia e è aperta all'interno del centro-destra. È chiaro che bisogna soprattutto semplificare in questo momento il quadro all'interno di Forza Italia per poter poi arrivare a fare sintesi, ad avere un unico candidato da confrontare rispetto alle dinamiche che la stessa Lega pretenderà e ha giusta ragione di poter verificare nel momento in cui bisognerà individuare un solo candidato del centro-destra unito. Gli errori del passato non vanno compiuti, sono costati molto cari quegli errori, hanno creato divisione e hanno creato poi la sconfitta del centro-destra. È acqua passata, oggi invece bisogna voltare pagina. Il centro-destra, quando è unito, non vince, stravince addirittura, come è accaduto proprio poche settimane fa in Regione Abruzzo. I prossimi giorni saranno determinanti, ci sono riunioni, ci saranno incontri, entriamo nel vivo di quell'attività che prelude poi alla campagna elettorale vera e propria, ma è un periodo molto molto importante perché è quello in cui c'è la selezione delle persone, non soltanto il candidato sindaco, ma anche coloro che avranno poi davanti la possibilità di concorrere e di correre anche per l'elezione al Consiglio Comunale, per la formazione di una nuova amministrazione comunale. Bene, ringraziamo l'avvocato Luigi Albore Mascia, grazie a lei e buon lavoro. Grazie, grazie.